Qui ci sono ancora i scarabocchi di ieri, il DAX, questa era la zona di supporto in area 12.8. Stamattina è davvero una giornata particolare perché questa è la prima candela delle 9, che era iniziata bene con un'apertura gap al rialzo, un'estensione fino a 13.100 e poi una caduta fino a 12.9 e poi è stato un su e giù fino al sell off che è partito alle ore 13 ed è continuato fino ad arrivare a 12.8.50, la media a 200 al tick, quindi siamo già andati a testare all'incirca la metà di questo range, che è quello del gap aperto tra il 21 e il 24 agosto, quindi il test lo abbiamo, il primo test è stato già fatto e tutto sommato è andato anche bene perché poi da lì i prezzi hanno rimbalzato, riportandosi di nuovo a 12.950. La volatility stop line non ha ancora cambiato colore, 12.950 in teoria sta facendo ora da resistenza, il trend di breve è decisamente ormai impostato al ribasso, però questo è il grafico in tradei a due ore, si consolida la figura di top arrotondato e quindi sono tutta una serie di segnali bearish, vedete anche il DMI minus che rimane costantemente negativo e sta risalendo la direzionalità, siamo arrivati a 18, non siamo ancora ai livelli per i quali poi il trend si può dire abbastanza consolidato, dovrebbe salire sopra 20-25, quindi non ci siamo ancora, però la direzione in questo momento è chiara e il trend sarà compromesso, intendo il trend più ampio perché vedete in una media 200 periodi, anche se siamo su un grafico a due ore, è comunque impostata ancora positivamente, la sua violazione al ribasso chiaramente sarebbe un segnale significativo perché siamo in questa situazione, quindi con i prezzi di sopra della media 200 da diversi mesi, quindi dal 29 aprile esattamente, per cui sarebbe un segnale importante, una violazione al ribasso, per cui questo è il livello da tenere presente, facciamola a breve, 12-8, 12-9 è la fascia che il DAX non deve mollare per non entrare poi in una situazione completamente differente. Il nostro Futsimib permane più debole, il famoso gap 21-24 lo ha già superato al ribasso e la direzionalità qui è già arrivata a 25, quindi si dimostra in questo periodo più debole dell'indice tedesco, l'indice tedesco che poi nel pomeriggio è stato anche salvato dalla performance americana, perché continuiamo qui ad andare nella ionosfera, ma l'avevamo detto nei video precedenti, quando si entra in questa fase parabolica, sì, poi ci sarà lo snapback, sarà violento, però la realtà è che non sappiamo quando poi questo avverrà, vedete che qui si continua a salire, si continua ad aumentare la pendenza verso l'alto e questo, come detto in altri video, vedete qua il livello ormai elevatissimo raggiunto dall'ADX 58, questi sono livelli dove poi gli storni saranno violenti quando ci saranno, quindi ripeto per chi non avesse sentito il video delle scorse volte, attenzione a entrare, cioè chi fa dei trading è un conto, compra la mattina, vende il pomeriggio, vende dopo un quarto d'ora, ma chi compra per investimento, attenzione a entrare su questi, anche sui fondi, perché tutto sommato il fondo sui tecnologici compra sempre quei cinque titoli, perché il Nasdaq in questo momento per oltre il 50% è rappresentato dai FANG, a cui si sta unendo Tesla lentamente, lentamente neanche tanto, perché comunque è arrivata a 400 miliardi di capitalizzazione, vi faccio vedere giusto qualche numero per capire il livello della bolla, capitalizzazione di Tesla 473 miliardi ha superato come capitalizzazione Visa, carte di credito, la differenza è che l'utile netto di Tesla è meno di mezzo miliardo di dollari, mentre Visa fa 11,8 miliardi di dollari, quindi stiamo parlando di 20 volte gli utili, stessa capitalizzazione 20 volte gli utili Visa e i margini di profitto di Tesla sono l'1,4% divisa il 51%, questo cosa vuol dire? Che chi compra Tesla oggi come investimento sta praticamente buttando via i soldi perché non ritornerà mai nulla di concreto, a meno che addirittura poi non si arrivi ad avere poi la verifica del fatto che Tesla è un tulipano, per cui non solo non ci sarà il ritorno ma ci sarà il rischio, quindi la follia dei tulipani olandesi, la prima bolla speculativa della storia, molto interessante vederne anche, ecco vedete i grafici, questo è un grafico del 1637, quella dei tulipani, ma questi fenomeni li abbiamo già visti negli anni 2000 con le dot com ma anche nel nostro paese con titoli come Tiscali e altri, l'abbiamo vista con le criptovalute un paio d'anni fa, poi avvengono questi fenomeni, quindi soprattutto se non c'è niente dietro, ma anche dove c'è qualcosa dietro come Apple che tutto sommato è un'azienda che produce prodotti reali venduti a centinaia di milioni di persone, abbiamo ormai anche nel caso di Apple raggiunto quotazioni che non daranno nessun ritorno sull'investimento, Apple in questo momento capitalizza 40 volte gli utili, ha aumentato nel 20% la quotazione solo perché ha annunciato lo split delle azioni e il suo amministratore delegato Tim Cook giustamente ha approfittato per vendere 560 mila azioni incassando 131 milioni di dollari, quindi se l'amministratore vende a 500 dollari di quotazione di Apple un motivo ci sarà, facciamoci due domande se le dovrebbero fare tutti quelli che in questo momento stanno comprando questi titoli e per cui così è adesso, quindi attenzione, noi per quanto ci riguarda possiamo semplicemente fare in modo di evitare intrappole che poi ci incastrino in situazioni indesiderate, va bene, basta con gli indici, un'occhiata veloce ad argento, oro e petrolio, prosegue la marcia rialza, io passerei però sui grafici giornalieri per vedere, questo è l'argento che continua a rimanere impostato positivamente dopo il sell off dell'11 agosto, le quotazioni hanno ripreso un canale rialzista, oggi c'è stata una mezza battuta d'arresto, non è escluso qualche altro giorno di consolidamento, però l'impostazione per il momento resta positiva, si è anche calmata un attimo l'andamento parabolico che aveva assunto anche l'argento, però questa è una situazione completamente diversa rispetto a quelle che abbiamo detto prima, quindi però nelle fasi di rialzo, anche diciamo dei rialzi tra virgolette normali, ci sono delle fasi di eccesso che poi vengono recuperate, l'argento la sta lentamente recuperando come l'oro in fondo, che in una situazione molto simile, quindi prosegue la sua marcia rialza, ci potrebbe essere qualche giorno ancora di consolidamento perché la giornata di oggi ha visto appunto un ritorno sui supporti nel pomeriggio, quindi niente di particolare, diciamo trend invariati, lo stesso per il rame, vi ricorderete che l'avevo segnalato intorno al 18 agosto se andate a vedere i video precedenti, quando aveva rotto al rialzo quest'ampia zona di consolidamento e in effetti da lì, e quindi l'avevo segnalato proprio perché quello è generalmente un segnale bullish di continuazione, di ripresa del trend, vedete che anche qui la situazione di eccesso è stata recuperata con un movimento laterale e adesso anche il rame sta continuando ovviamente con le sue oscillazioni a la sua marcia rialzista, diversamente invece il petrolio rimane un po' lì a oscillare in area 43, la sua volatilità in questo momento è molto bassa e si è infilato in questo imbuto tra le medie più lunghe e la volatilità di stop line, per cui lo ha già fatto in passato il petrolio con lunghi periodi di bassa volatilità e di scarsissima direzionalità, guardate la DX a 13 addirittura, abbiamo detto che per avere dei valori significativi, siamo ai minimi degli ultimi qua aprile, marzo, ai minimi degli ultimi sei mesi, quindi da qui si muoverà qualcosa prima o poi, queste sono figure che poi portano al solito, è capitato diverse volte di tracciare situazioni del genere, portano poi a prendere con decisione una delle due strade, cioè avremo dei movimenti percentuali significativi a fronte di un periodo dove invece le cotazioni sono di fatto rimaste piatte. Ultima nota è la volatilità perché vorrei far notare che la volatilità sta risalendo, quindi questa è quella europea, questa è la volatilità implicita misurata sulle option, il famoso indice della paura, quindi anche questo è un segnale che mentre l'indice attorno al DAX scricchiola e va a testare i supporti, la paura sta aumentando, quindi attenzione perché questi sono anche dei segnali premonitori per cui prendere opportune cautele, evitare di stare a leva in un momento del genere e tutte le cautele che possono essere prese per evitare spiacevoli sorprese qualora dovessero esserci. Purtroppo la situazione del Nasdaq è tale che un normale snapback coinvolgerebbe poi comunque anche gli altri mercati, è difficile, in passato non ho mai visto situazioni di ritorno da eccessi speculativi sui mercati come quelli americani non influenzare poi anche gli altri, c'è sempre una prima volta però per il momento è così. Chiudiamo un attimo col VIX perché anche il VIX che è la volatilità implicita americana comunque sta dando segnali di risalita, sta vicino alla media 200 della volatilità stop line, non le ha ancora superate, il nostro invece si sta prestando a superare la media 200. Va bene, questo è tutto per oggi, siamo già a 11 minuti di video, lasciatemi pure i vostri commenti sotto e ci risentiamo domani, è tutto per oggi, grazie per l'attenzione.